Migranti sbarcono il Regino. 95 persone di varie nazionalità sono state soccorse ad oltre 100 miglia dalla costa calabrese di Roscella Ionica, dalla guardia costiera. Tra loro anche 25 donne, di cui 1 incinta e 16 minori. La mezzia terme, reddito di cittadinanza senza titolo, denunciati dalla guardia di finanza 469 stranieri, percepiti indebitamente 2 milioni di euro. Covid-19, sono 26 positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, due decessi, entrambi in provincia di Cosenza. Agroalimentare, presentato in cittadella il progetto Calabria-Mediterraneo e rapporti internazionali. L'assessore Gallo, grande attenzione per le nostre aziende.